Arezzo 1931, La rinascita del Saracino, è il titolo del nuovo libro dedicato alla storia della giostra a cura di Saverio Crestini. L'opera, divisa in quattro capitoli e contenente oltre 160 fotografie, ripercorre il passato del torneo cavalleresco aretino partendo dalle origini. Il volume sarà presentato domenica 16 giugno alle 11.30 presso la sala Girolamo Turini nella biblioteca città di Arezzo. Ho fatto una ricerca storica dai primi documenti ritrovati per poi fare un approfondimento su tutti quelli che sono stati gli anni 30, quindi gli anni della rinascita del Saracino, ricordiamolo la giostra rinata grazie al podestà Pier Ludovico Ochini e alla brigata aretina Amici dei Monumenti che si fecero fautori di questa grande opera di riesumazione di questo torneo cavalleresco. Qui potrete trovare tutto quello che non si sa sul Saracino che in verità poi noi aretini dovremmo sapere a menadito perché alla fine il Saracino sia divertimento e aggregazione però è anche importante avere una buona cultura e una buona base sulla nostra rivocazione storica. Il libro sarà acquistabile in tutte le librerie, in tutte le edicole, nei quartieri della giostra e spero di poter distribuirlo anche durante le prove in piazza dei giostratori.